C'è una bella tradizione che vuole che la quarta domenica di Pasqua si celebri la giornata mondiale di preghiera per le vocazioni. Ah, le vocazioni, quelle dei preti! Ma in realtà vocazione viene dal latino vocare che significa voce. E infatti in questa domenica si legge sempre la parabola del buon pastore che chiama le pecore con la sua voce. Il problema è che ci sono due voci. Quella del pastore, e le pecore la riconoscono, è quella dei ladri, con una differenza sostanziale. La voce del pastore è quella di Dio. La voce dei ladri è quella del nemico. Queste pecore, di cui una sei tu, vivranno soltanto se riconoscono la voce del pastore. Il problema è come si riconosce la voce del pastore. Ci sono cinque aspetti da considerare. Il primo, questa voce ti parla sempre di ciò che desideri. Voglio diventare un geti come mio padre. Dio non ti va a chiedere una cosa che non vuoi. Quella è la voce del nemico. Vieni con me. Il tuo desiderio è importante, e Dio ti parla di quello, non di un'altra cosa. Secondo, questa voce ti chiede un percorso difficile. Che costa sacrifici? Un geti deve avere profondissimo impegno. Perché le cose belle sono sempre costose, no? Se ti viene chiesta una cosa facile, forse è la voce del nemico. Insieme potremo governare la galassia. E poi, se una strada è più complicata, c'è anche più soddisfazione ad arrivare alla meta. Terzo, questa voce ti propone sempre qualcosa per gli altri. Amici, hai tu lì. Anche perché Gesù è il primo che si è dato per gli altri. Non ti chiede mai una cosa per te stesso, se no è troppo facile. Non mi deluda anche lei. Te la suoni e te la canti. E poi che ci guadagni, scusa. Per di tutti gli altri. Quarto, questa voce ti assicura una pace interiore. Senti la forza scorrere. Non ti fa mai sentire insoddisfatto. Altrimenti è l'altra voce. Quella del nemico. Quinto ed ultimo, questa voce ti manda sempre da una persona adulta che ti sa aiutare. Sarai istruito da iota. Tu, alcune scelte, non sei capace a farle. Hai bisogno di parlarne. E se ti abbandona a te stesso, significa che è l'altra voce. Devo affrontarlo da solo. Vabbè, ma tutte queste voci, dove le sento? Io non sento niente. Un documento del Concilio Vaticano II, che si chiama Gaudium et Spes, al numero 16, dice che la voce di Dio risuona nell'intimo del cuore. Ed è lì che si riconosce la sua voce. Perché il recinto delle pecore è il tuo cuore. La voce di Dio risuona dentro di te. Sta nei tuoi desideri. Ecco perché ti parla di ciò che desideri. Ma stai attento. Perché nel tuo cuore c'è anche l'altra voce. E ti può allontanare da quella vera. Perché alla fine la nostra vocazione non viene dall'esterno. Viene dall'interno. Ce l'abbiamo dentro. E non è possibile fraintenderla. Si riconosce sempre.